Noi dell'Italia Valori abbiamo supplicato il Capo dello Stato affinché, spieghi bene anche al Presidente del Consiglio incaricato, che noi riteniamo che la legge elettorale si può fare in due giorni, se un Parlamento responsabile lo voglia fare. Ma questo Parlamento sappiamo che è composto dagli stessi componenti composti in questi tre anni, che non l'hanno fatto, tanto da aver indotto 1.200.000 cittadini a promuovere il referendum. Quindi per noi il referendum che abbiamo promosso e di cui siamo tra i promotori un gruppo molto attento e operativo, quel referendum rappresenta evidentemente il punto d'arrivo oltre il quale non si può andare. Ma noi ci auguriamo che il tutto possa avvenire molto prima, sia con riferimento alla legge elettorale, sia con riferimento a quei provvedimenti d'emergenza per cui nasce questo governo tecnico. Perché non è che noi possiamo morire di formulette nel mentre il mercato internazionale e l'Unione Europea ci allontani dalla realtà europea, della realtà di un Paese occidentale di cui bisogna ricostruire fondamentalmente la credibilità.